E' un documento straordinario per la storia, per come è andata, bene, male, responsabilità, tutto quello che voglia. L'ho trovato un film comunque che si concentrava sul lato umano. E' un film faboloso. E' emotivamente difficile da reggere. L'ho vissuta intensamente anche per i posti che conosco bene. Un lavoro che ha messo in evidenza un pezzo di memoria dolente della nostra storia più recente. Mi è piaciuto, è stato commovente da un lato, come un esodo biblico. Grazie.